Ok, ok, bravissimi. La rifacciamo. Se è bravissimo, che lì mi ha rifatto? Allora, io ci pagare pure il telefono, secondo me. Ma no, no, no. Oh! 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 What's the money, Bruno? Tonino! Oh, stai fattendo veramente? Eh, pulisci le mani addosso. Tonino! Oh, Tonino! Ti prego, Nino, non devi ridere il cazzo, dai! Dai! Stai adesso. Però sto che a incendere. Che scemo! Cazzo! E' pezzato in merda. Ciò, tutta la posta. Prima, buona!